Il mio canale di Cura93 Il mio canale di Cura93 Sono le prime armi Spero che il video vi possa piacere Spero che quello che ho fatto per voi Vi possa piacere Cioè lo possiate apprezzare Spero che continueranno le persone Iscriversi al mio canale per i video che faccio Spero di divertirvi Spero di piacervi Il mio modo di parlare Che io sia ironico Che sia simpatico Ve l'ho detto ragazzi Tutto incominciato da questo scatolone verde Un mio acquisto che ho fatto su ebay Ho speso questi soldi Perché volevo Far Sentire Cioè volevo far ascoltare il mio pensiero Il mio modo di ragionare Il mio modo di giocare Fare vedere come gioco Come sono Se sono bravo Se sono scarso Volevo rendervi partecipi Dei giochi che acquisto Di qualsiasi gioco che acquisto Come da Black Ops Da Black Ops 2 Da Battlefield 3 Possono essere FIFA Possono essere Sniper 2 Ghost War Force Horizon Qualsiasi gioco che ovviamente Non è la mia bacheca Quindi ragazzi Spero che Spero di essere stato all'altezza Di miei 100 iscritti Spero possiate aumentare un giorno Spero di Rendervi sempre fieri di me Voi Voi mi avete dato tantissimo Per questo E io Non vi ringrazierò mai tanto Comunque sia Voi pensate di essere pochi 700 iscritti Per me non siete pochi Per me 700 persone Che io sono riuscito a conquistare Con i miei video I miei video saranno 38 Adesso non mi ricordo 39 o 40 Però Sono frutto di un lavoro Che io Cioè che io Ho fatto E veramente E io sono fiero Sono fiero di questi video E sono fiero che voi Rapprezzate tantissimo Ogni volta che io ne pubblico Uno Quindi ragazzi Grazie mille ancora Ovviamente iscrivetevi Cominatamente Mi dite mi piace Io ve lo dico sempre Perché È sempre È sempre il mio È un mio Parere Io vorrei chiedergli Sempre queste cose Vorrei sempre Vorrei chiedergli sempre Di iscrivervi Di mettere un bel mi piace Di mettere un bel commento Se ovviamente avete apprezzato il video Se non avete apprezzato Un dislike A me non cambia la vita Come sapete A me non mi frega niente Io sono contentissimo Quando mi mettete un mi piace Sono contento Non sono contento Quando mi mettete un dislike Ma non mi faccio una ragione di vita Mi fa piacere che voi Apprezzate i miei video E ovviamente un commento Che è costruttivo A me fa sempre piacere Quindi da cura Mi raccontate di tutto Ci vediamo alla prossima Ovviamente guardatevi il video Guardate cosa ho fatto per voi Alla prossima Ciao raga Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.